...con Farca. Ieri vi abbiamo dato un numero, siamo cresciuti, l'abbiamo capito tutti, perché io sinceramente da questa giornata esco veramente soddisfatta. Era tanto che non mi emozionavo. Ringrazio personalmente i signori che sono passati sul video, quindi Paolo Colangelo, Paolo Crozzoli, che dire di Fabio Vivian? Fabio, ieri veramente mi hai colpita e non serviva a colpire me, hai colpito il ministro che è stato strepitoso. Dino, dov'è il mio amico Dino? Non c'è più, è scappato. Ecco, questo per dirvi cosa, che sono orgogliosa di essere con Farca, di essere rappresentata da voi sul territorio, di vedere che l'amministrazione pubblica con cui viviamo tutti i giorni, che è il MIT, ci stima, ci chiama, ci confrontiamo e siamo diventati loro consulenti, non ufficiali, ma direi anche ufficiali. Vedere il ministero della salute che pronuncia questa frase, non avrei mai creduto che le autoscuole sono questo. Questo per me è il ringraziamento più bello di questa giornata. Però io gli ho risposto di così, di avvicinare, sono, prendete un giro perché la chiamo un bella, capito? Sono offesa. Sono offesa perché lei non mi ha mai chiamata Ele, capito? Io gli ho detto, attenzione, non tutte le autoscuole così, solo le autoscuole con Farca sono così. Applauso, applauso. Attenzione, questa è la differenza. Ecco, appunto per questo, il mio grazie personale a tutti voi, tutti voi che ci rappresentate in Italia, perché la dirigenza fa il suo lavoro, il presidente fa il suo lavoro, la giunta fa il suo lavoro, ma chi fa il vero lavoro siete voi. Siete voi che sacrificate le vostre giornate lavorative per dedicare a divulgare il verbo, dico io. Questo è determinante, perché è inutile che facciamo se poi non arriviamo. Ho citato tre nomi prima, Crozzoli, Vivian, Indiveri, è solo per, eccolo, è solo per dirvi che, grazie, grazie di quello che hai fatto ieri, bello, detto da me. Vale doppio! Vale trinta!